Il biondo e le more Sono Alessia Abrami e sarò con voi fino alle 16.30 Come ogni venerdì E come ogni venerdì con me c'è Roberta Latella Ciao a tutti Iniziamo subito con la notizia super Gemma del Sud, la famosa cantante e ballerina attrice Ritorna in scena con una nuova cover Vestita solo con un perizoma Che tra l'altro voglio anch'io Quindi, mia cara Gemma Quando puoi mi dici dove lo hai comprato Ci propone una canzone di Michel Telot Direi la canzone Visto che quella specie di Pokémon ne ha fatta solo una Che tra l'altro sembra aver copiato D'altro e tre ragazze Comunque, passiamo allo sport Adesso invoca il lancio del telefono cellulare Io ci provo E bravo Robby Che a quanto abbiamo visto con i lanci Ci sai fare Ricordiamo che Roberta Latella In cerca di un uomo maturo Possibilmente morente Così da potergli fregare i soldini Ma mandiamo una canzone Bella questa canzone Che sembra tra l'altro Che sia vicino anche ad Andrea Crioli Il nostro ascoltatore Leader del pensiero siculo Sì, leader Sì, esatto Che cazzo vuol dire leader? Come vuol dire perché? Chi dovrebbe essere leader di voi? Io? Ma che cazzo stai dicendo? Ma c'è il libro? Oh, ma che cazzo è 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 il libro? Oh, ma dove cazzo? Ma non ho capito? Oh, ma vantì E a tutte le puttate che fanno La puntata di oggi finisce qui Vi ricordiamo che sono Su Facebook, Twitter, YouTube, MySpace, Padu, Vimeo, Caffè News E anche su MSN Anche se purtroppo non ci caga più nessuno Ma vabbè Ti stai dimenticando qualcosa? Ah sì, abbiamo anche un'email di messi in onda Ciao E alla prossima puntata di Ci facciamo i cazzi altrui E volevo dire Il biondo e le more Ehi, biondo! Lo sai di chi sei il figlio tu! Sei il figlio di una grandissima! Non mi avete a morare No, non mi lasciare Non mi vieni, non mi dai Non vieni No, non, 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 no No, non, no Ok, due stage numero uno 按dada E come di venerdì con me c'è Roberto Alatella, ciao a tutti, bene, Gemma del Sud e la Favolosa Canta... Perché cazzo può cacciare? Era così! Gemma del Sud e la Favolosa... Gemma del Sud e la Favolosa... La famolosa... Ritorna in scena con una nuova cover, vestita con... Direi... Compare però! E brava Robby, che... E brava Robby, che quanto abbiamo visto con Ina G, ce la sai, no aspetta, ce la sai... Ricordiamo che Roberto Alatella è in cerca di un uomo maturo, possibilmente morente, come Ciccio... Vi ricordiamo che siamo su Facebook, YouTube, Twitter, Pais... Paispei, Paispei... Vi ricordiamo che siamo su Facebook... Ciao! Grazie.